Hai mai provato quella sensazione per cui non sai se una cosa l'hai vissuta o se invece l'hai solo sognata? È lui? Sì. Marta! Hai un viso da Marcy May. Ti piace il posto? Certo, è fantastico. Io lo so che per tutta la vita ti hanno sempre abbandonato. Se qui ti senti al sicuro, come spero, lasciaci entrare. Se vuoi rimanere a vivere qui, devi essere parte della famiglia. Devi donarti agli altri. Non devi essere egoisti. Dove vanno a quest'ora? Pensa a qualcuno che ti ha ferito. Pensa a come ti ha fatto sentire. Fa salire la rabbia. Liberala. La morte è bella perché ci rende completamente consapevoli. È amore puro. Sparagli. Ora devo andare. Marti May! Dove vai? Calmati un po'. Sono quel cazzo! Dove soccarmi! Hai un viso da Marcy May. Marta? Cos'hai? Che ti è successo? Gesù. Dove ma l'amore. Chi è successo? Dove no cazzo. No to non cazzo. Si sei. Chi è successo. No cazzo. Sì. Dove no cazzo.